Buonasera, ben trovati, nuovo appuntamento con Viareggio Comunica, la nostra rubrica dedicata all'attualità che riguarda il territorio comunale di Viareggio. Partiamo subito in questa puntata presentando gli ospiti che sono con noi in studio. Abbiamo due assessori dell'amministrazione comunale di Viareggio. Li vado a presentare. Parto qua accanto a me dall'assessora delle risorse finanziarie di Viareggio, Laura Servetti. Buonasera, ben trovata. Buonasera, buonasera a voi. Grazie di essere qui con noi e vado a salutare e ringraziare l'assessore allo sviluppo economico e marketing territoriale, Alessandro Meciani. Buonasera. Buonasera. Dunque, i temi sono tanti e cerchiamo un po' di fare un quadro generale abbastanza rapido per offrire una visione completa sui tanti temi, le deleghe che avete, che si traducono naturalmente nella vita di tutti i giorni della città. Parto da, insomma, dalla stagione che stiamo vivendo, quindi partirei parlando di turismo, assessore Meciani. La Pasqua è alle spalle, è un po' il banco di prova della stagione estiva e turistica, il carnevale ancora più indietro, ma sono due, dicevo, banchi di prova importanti. Che numeri sono emersi, partiamo da qua, e che prospettiva c'è quindi per l'estate? Beh, i numeri che sono emersi dal carnevale sono stati eccezionali. È stato fatto un lavoro serio, importante e soprattutto abbiamo avuto la soddisfazione di vedere nel primo corso del carnevale il record. Questo significa che abbiamo lavorato bene su tutto quello che è l'argomento della promozione per arrivare pronti al carnevale. È stato un carnevale da record, è stato un carnevale che ha portato risorse nella città e che ha dato il via alla stagione 2024. Quindi direi che siamo assolutamente soddisfatti e facciamo i complimenti a tutti quelli che hanno partecipato all'organizzazione di questa macchina veramente impressionante che è il carnevale di Viareggio. Per quanto riguarda la Pasqua, nonostante il meteo sia stato particolarmente complicato, abbiamo avuto degli ottimi riscontri delle presenze in città e abbiamo dimostrato che Viareggio può competere anche al di là della stagione estiva su quelli che sono i flussi turistici indipendentemente dall'operatività degli stabilimenti balneari. Proprio a cavallo della Pasqua sono arrivati dei dati, quelli dell'Istat, che hanno confermato delle previsioni, quelle che l'ambito turistico Versiglia aveva fatto sul 2023. Oltre a questi dati, un commento, le vorrei chiedere a proposito di ambito turistico di cui ovviamente Viareggio fa parte e lei come assessore lo rappresenta, che attività si fa in termini di promozione? Allora, per quanto riguarda l'ambito turistico della Versiglia abbiamo fatto prima delle proiezioni sui numeri che avremmo appunto concretizzato nel 2023 e queste proiezioni sono state abbondantemente confermate e addirittura superate. Avevamo un progetto noi come amministrazione comunale ben preciso all'inizio di questo mandato, che era quello di andare a recuperare completamente tutto quello che la pandemia ci aveva tolto e devo dire con soddisfazione che siamo riusciti a performare addirittura meglio di quelli che erano le nostre ambizioni, superando quelli che erano i numeri realizzati nel 2019. Fare un più 3% nel 2023 è stato veramente un grande risultato. Come ambito turistico noi abbiamo organizzato dei momenti di promozione che sono andati su tutte le fiere italiane e internazionali del turismo, abbiamo cominciato nel mese di ottobre col Salone di Rimini, abbiamo continuato a febbraio con la BIT di Milano e poi abbiamo fatto un importante road show negli Stati Uniti nel mese di marzo dove abbiamo toccato le città di Miami, Washington e New York. Abbiamo concluso proprio ieri, vengo direttamente adesso dal Salone di Nizza dove era presente lo stand di Viareggio che ha suscitato veramente tanto interesse, abbiamo avuto degli incontri importanti con dei tour operator internazionali e direi che c'è una riscoperta di Viareggio e della Versilia tutta. Questo è un lavoro che viene fatto con l'ambito turistico della Versilia, con il supporto tecnico del consorzio di promozione turistica e la città di Viareggio fa anche delle iniziative dirette e personali negli ambiti che ci interessano di più, per esempio il sud della Francia e abbiamo anche come città di Viareggio organizzato degli incontri, dei press tour con dei giornalisti portoghesi e tedeschi e soprattutto portoghesi ci tengo a dirlo perché è stata aperta la linea aerea di Ryanair Pisa-Portogallo. Quindi la macchina turistica è in moto pienamente, naturalmente il Comune ha anche questo compito di stimolare tutti i meccanismi, ma e venga l'assessore Servetti è chiaro che tutto questo senza il continuo ordine è difficile farlo, dirò una banalità ma arriviamo a temi che riguardano le finanze, è naturalmente un tema complicato, delicato a Viareggio perché alle spalle c'è una stagione difficile, quella del disesto ormai lontana. Al momento qual è lo stato di salute delle finanze del Comune e il rendiconto 2023 che vi apprestate a portare in consiglio? Che numeri mostra? Allora effettivamente la stagione del disesto ormai è diciamo dimenticata, il nostro rendiconto ha numeri veramente positivi, partiamo da un bilancio ormai consolidato, ormai sicuro, siamo intorno in cassa ai 68 milioni di Euro, noi andremo ad applicare anche un avanzo importante che è un avanzo fatto appunto anche questo di numeri ovviamente, ovvero un avanzo totale di circa 22 milioni di cui 13 milioni sono così ripartiti, 4 milioni all'incirca sui lavori e la rimanenza per tutti gli investimenti che noi abbiamo in tema di sociale ed altro scusate e poi abbiamo una buona fetta di circa 9 milioni di Euro appunto destinati ai lavori e quindi a proseguire quelli che sono i cantieri che sono già aperti. È un bilancio assolutamente positivo, ho usato il termine consolidato perché non è solo un bilancio del Comune ma un bilancio che tiene conto anche della positività dei bilanci delle nostre partecipate, tengo a precisare che è un bilancio ormai pulito perché abbiamo ormai restituito anche quel famoso mutuo, lo chiamo mutuo in realtà appunto prestito del fondo di rotazione che ci era servito per chiudere il dissesto pari a 33 milioni. Nonostante questo noi abbiamo chiuso il 2023 con un bilancio appunto di circa 94 milioni di Euro, chiuso la parte precedente, oggi in cassa abbiamo 68, tenuto conto appunto di questa restituzione, quindi un bilancio sicuramente positivo. Diceva bilancio consolidato, facciamo questa sottolineatura appunto, società partecipate e fondazioni, l'ha detto brevemente ma significa che lo stato di salute anche della famiglia delle partecipate è positivo? Assolutamente, l'ho detto volutamente proprio perché senza voler ritornare naturalmente ai momenti nefasti del dissesto però quando siamo arrivati in quella fase avevamo ben 18 società partecipate, quindi veramente una vera e propria galassia e i bilanci naturalmente erano tutti in difficoltà per usare un eufemismo. Ora invece abbiamo appunto un bilancio del comune solido con numeri assolutamente positivi e un bilancio di tutte le società partecipate assolutamente positivo. A proposito di partecipate, mi soffermo un secondo su iCare che è davvero un po' la società che mette a terra tanti servizi, un po' il braccio operativo del comune, pensiamo alle farmacie comunali, la gestione del porto turistico, le menze scolastiche ad esempio, qua venga un tema che sta molto a cuore alle famiglie, le tariffe delle menze scolastiche come sono state modulate? Sì, proprio in occasione appunto della disamina, della possibilità di intervenire positivamente sulle tariffe che ovviamente erano state le prime ad essere toccate. In tema di dissesto noi abbiamo deliberato di giunta una sostituzione dell'attuale meccanismo che partirà a decorrere dal nuovo anno scolastico, quindi dal settembre 2024, che consentirà tramite l'applicazione di una serie di fasce che sono state aumentate, quindi le fasce intermedie nell'attuale sistema si arriva fino ad un massimo di 12 mila euro anno, adesso abbiamo portato fino a 25, quindi allargando le fasce intermedie, questo ci ha consentito di redistribuire con maggiore equità l'effettivo importo di contribuzione da parte delle famiglie, tra l'altro a gettito invariato, quindi comunque una soluzione innovativa, devo dire la verità, studiata già da un po' di tempo e potuta realizzare appunto dal prossimo settembre 2024, questo comporterà una maggiore equità perché le fasce saranno ripartite in modo che effettivamente ciascuno paga in relazione all'effettivo reddito, si chiama proprio applicazione del reddito lineare ed è a mio avviso una bella soddisfazione perché il primo modo di aiutare naturalmente le famiglie è proprio quello di intervenire in quella spesa che naturalmente è ahimè obbligatoria. Sono sul turismo, poi veniamo anche a altre questioni che riguardano i beni immobiliari del comune, turismo assessore Meciani spesso facciamo un'equivalenza con estate e turismo balneare, si può andare anche oltre a Viareggio e quindi offrire un'economia turistica che copra maggiormente l'annualità, in che modo ci si può riuscire? Beh assolutamente sì, il progetto dell'amministrazione prevede naturalmente di valorizzare il turismo balneare che continua ad essere l'asset principale della nostra città con il 70% del fatturato che viene appunto da questo tipo di turismo, ma è nostra intenzione andare a lavorare e stimolare tutti gli altri tipi di turismo che rendono la nostra città attraente, mi riferisco per esempio al turismo sportivo, mi riferisco per esempio al turismo culturale, mi riferisco per esempio al turismo della nautica, tutto quello che può portare, per esempio parlava lei prima dell'approdo della Madonnina, è una porta d'ingresso della città che apre per un turismo che è importante e con alti volumi di spesa, quindi la necessità nell'ottica complessiva della gestione del turismo appunto è quella di andare oltre a quella che è la stagione balneare, anche e soprattutto in un'ottica di destagionalizzazione dell'offerta che la nostra città è in grado di proporre su tutti i mercati nazionali e internazionali. Tra poco le chiederò anche qualche anticipazione sugli eventi dell'estate, magari perché no anche dell'autunno, però vorrei tornare dall'assessore Servetti perché ho citato il tema del patrimonio pubblico inteso proprio come immobiliare, vorrei focalizzarmi almeno su due strutture molto in vista sul cui destino ci si interroga ormai da tempo, l'exarengo che è una struttura a questo punto chiusa e che attende un progetto di valorizzazione e il teatro Eden di cui si è parlato molto negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, che destinazioni avranno e che tempistiche ci sono? Allora, per quanto riguarda l'exarengo abbiamo iniziato un paio d'anni fa, ora in questo momento abbiamo in atto la predisposizione di tutti i pareri in sovrintendenza perché siamo nella fase di approvazione del progetto di fattibilità, verrà strutturata una concessione d'uso, noi siamo proprietari naturalmente, la utilizzerà e la ristrutturerà prima Gaia, quindi dando uno sportello, un'attenzione particolare ai cittadini di Viareggio che possano avere naturalmente la possibilità di usufruire dei servizi a pronta presa rispetto al comune, una ristrutturazione importante, una ristrutturazione che prevederà anche la ristrutturazione stessa del bellissimo affresco del Menghino, ma in ogni caso la possibilità di restituire alla città un immobile comunque che ha una sua valenza, in ogni caso sia storica ma anche ovviamente istituzionale, quindi siamo ovviamente in una fase legata all'approvazione dei vari progetti, si presume di poter portare in gara con un appalto integrato naturalmente i lavori intorno alla metà del prossimo anno, quindi più o meno queste sono le tempistiche. Teatro Eden sappiamo volontà dell'amministrazione fare nel teatro comunale, diciamo, a che punto siamo? Allora abbiamo lavorato in sinergia naturalmente sia il mio assessorato con l'assessorato a cui passerò, diciamo così, poi la staffetta, quindi l'assessorato alla cultura, diciamo la parte che ho materialmente seguito è quella appunto dell'acquisizione, della riacquisizione del teatro, siamo ormai possiamo dire addirittura d'arrivo perché naturalmente ci sono i tecnici che stanno lavorando per quanto riguarda la valutazione da parte del comune, da parte naturalmente dei attuali gestori, io direi che ci sono buone prospettive per poter chiudere questa trattativa nell'arco di un paio di mesi, poi naturalmente verrà restituito alla città un teatro che insomma è degno di nota. Brevissimo passaggio sui teatri, non possiamo non farlo, teatro Politeama, proprio in questi giorni di recente inserito fra i monumenti teatri, monumento nazionale insieme ad altri anche del territorio, accolto come una buona notizia un po' anche da altre forze politiche, Lega, PD, hanno anche rivendicato l'attività fatta dai propri rappresentanti a livello nazionale, per il comune, per l'amministrazione questo che cosa vuol dire, come commenta questa novità che interessa Politeama? Allora, a parte sorridere simpaticamente nel vedere comunque esponenti del PD e della Lega che vanno a braccetto, ma questo è naturalmente semplicemente una piccola riflessione, devo dire che ovviamente anche il comune è contento di questa qualificazione, se effettivamente come pare verrà configurato come ovviamente edificio, come monumento nazionale addirittura, io mi auguro che poi lo Stato, ovviamente l'altra mano diciamo rispetto a chi l'ha configurato, intervenga per metterlo in ordine, sarebbe davvero un peccato insomma che rimanesse in questo Stato, abbiamo già valutato più volte quanto sarebbe l'intervento da parte del comune, ci auspichiamo però che comunque lo Stato ci dia una mano. E vedremo come andrà a finire. Assessore Meciani l'ho lasciato lì in attesa per prepararci un po' all'estate che sta per arrivare al 2024, sappiamo quanto gli eventi funzionino per arricchire la stagione ma anche attirare nuove presenze, su quali punterete? E poi ovviamente posso non guardare anche all'autunno per capire se si rinnova l'accordo con Lucca e quindi con i comics. Sì, allora direi che il progetto dell'amministrazione comunale fortemente voluto dal sindaco ci ha chiesto appunto di inserire tutti quelli che sono gli eventi in una cordice con una vocazione e con un'attenzione a valorizzare quello che è il tema del centenario della morte di Puccini. Quindi diciamo che gran parte degli eventi avranno un'integrazione, uno sfondo con la materia pucciniana e laddove è possibile saranno anche portati direttamente a Torre del Lago. Diciamo che noi cominciamo il 19 di aprile con il ritorno della terra di Canossa, una competizione importantissima di auto storiche che avrà il suo evento clou appunto al Principino e appunto all'interno di questo evento clou ci sarà un concerto con le armonie del maestro. A seguire andremo intorno al 25 aprile con l'evento dello Slow Food sempre al Principino, un evento che lo scorso anno ha avuto un grandissimo successo e ci auguriamo naturalmente di migliorare. passeremo poi al mese di maggio dove ci sarà il Giro d'Italia di motociclismo e poi sulla fine di maggio avremo un evento molto importante che è l'Oscar italiano del cicloturismo. Dovete sapere che la ciclovia Puccini è stata premiata come la miglior ciclovia d'Italia, una ciclovia stupenda che parte da Lucca e arriva fino alle terre del maestro, fino a Torre del Lago con passaggio con il barcone e su tutta la ciclovia sono stati applicati dei codici QR per cui chi farà questo percorso potrà sentire le bellodie di Puccini. Andremo poi nel mese di giugno dove abbiamo la Mille Miglia che tornerà ad essere sede di tappa a Via Reggio dove abbiamo previsto un percorso lungo tutta la passeggiata, delle prove speciali sul Viale Dettigli e poi di nuovo torneremo su Torre del Lago, torneremo su Torre del Lago sulla Marina e poi dopo ci sposteremo sul Belvedere e con la cena e vento appunto al Pucciniano. A seguire sempre nel mese di giugno ci sarà una novità che è il Festival della Robotica applicata alla Nautica, un evento scientifico tecnologico di altissimo valore divulgativo e anche di altissimo interesse scientifico. Subito dopo, anzi diciamo contemporaneamente tornerà la Via Reggio Bastia-Viareggio, la rivisitazione di quella che fu una gara di offshore adesso declinata in un ambito di sostenibilità ambientale per cui la faremo con i maxi yacht a vela. Nel mese di luglio avremo l'evento di Cartoon Network e Warner Bros in Piazza Mazzini e poi dopo c'è tutto un tema che lei mi aveva giustamente anticipato che è quello della collaborazione con Luca. Collaborazione con Luca che l'abbiamo già vista nell'Oscar del cicloturismo, che l'abbiamo fatto insieme e poi insieme appunto all'amministrazione della città di Luca. Qua infatti vediamo proprio lo scorso autunno i comics che sono arrivati in passeggiata, questo è quello che si auspica di rivedere per il prossimo anno. Non solo lo rivedremo ma lo vogliamo fare in maniera ancora più coinvolgente, in maniera ancora più estesa, sempre sulla passeggiata, con altri stand e con altri attori insieme a noi. Una cosa molto importante invece che ci teniamo molto, che fa parte di quelli che sono appunto le prospettive della nostra amministrazione, è il ritorno del Festival della Salute, anzi Festa della Salute e della Sanità che tornerà nel mese di settembre a Viareggio. una rivisitazione anche questa volta per portare il dibattito su temi medici e scientifici, ma anche per far apprezzare e far valutare quello che può essere il riscontro di una città vivibile, sana e bella come Viareggio e i riflessi positivi che può avere sulla qualità della vita e quindi sulla salute. Questo è un po' il nostro programma, delle cose che abbiamo già deliberato e delle cose che abbiamo già stabilito. Naturalmente ci sono tantissime altre manifestazioni che abbiamo in programma, che abbiamo in trattativa, perché tutte queste cose? Perché Viareggio è ritornata ad essere una città attrattiva, è ritornata ad essere una città dove tutti vogliono venire a fare i loro eventi e le loro manifestazioni e questo è veramente il valore che stiamo lasciando alla nostra città, riportarla al centro della promozione nazionale e internazionale. Bene, mi devo fermare qua, ringrazio gli assessori per essere stati con noi in studio in questa puntata, grazie di essere stati con noi e buon lavoro, ci fermiamo qua e grazie per essere stati con noi e buon proseguimento. Grazie a tutti.